Grazie Cantautore e salsoponista Nasce ad Avellino e si incontra ben presto con il mondo della musica Nel 2008 partecipa all'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi E lì, ascoltato da Gigi D'Alessio, viene scelto per interpretare la sigla Johnny del programma stesso Signori e signori, ecco a noi questo video Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.